Open Art, Creative Graphic Design School Corsi di grafica pubblicitaria Comunicazione visiva Grafica editoriale Grafica multimediale Corsi di fotografia Corsi di video editing Corsi di web design, webmasker, e-commerce, social marketing Open Art Creativi si diventa Open Art è a Napoli, India Pessina 90 www.openartgrafica.com openartchiocciolami.com Telefono 081 544 8397